Se vuoi comprare la tua prima camera o vuoi migliorare il tuo equipamento e comprare una camera migliore, devi guardare alcuni punti importanti prima. Se questa è la tua prima camera, suggerisco non spendere troppo. Ma provate a trovare una camera che può filmare in modo manuale e puoi iniziare a le diverse settimane e giocare con la velocità e l'apertura. Una volta che hai esperienza e che hai trovato che la fotografia può essere un piacente per te, puoi investire in una camera più costante. Suggesto di guardare sul mercato seconda, perché puoi trovare molto facilmente un buon deal. Se vuoi prendere la camera con te la maggior parte del tempo, una camera migliore può essere la migliore soluzione. Una camera migliore è un hybrid tra una camera compatta e una DSLR, con una camera fixata e, a volte, un grande zoom. Sono piccoli e legati e sono i migliori per prendere con te tutto il tempo, soprattutto durante la via, senza portare un set di lenti diversi. Quando parliamo di risoluzione, parliamo di megapixel. Potremmo trovare camere con 12 megapixel, come le camere di action o le vecchie compatte. Ma anche, ci sono camere con 16, 18, 20, 24, e con le più professionali camere con il full frame, possono avere 48 megapixel. Sì, il numero dei megapixel determina la qualità della foto. Ma ricorda, è un compromesso tra i megapixel e la dimensione del sensore. Con 20, 24, 48 megapixel, possiamo imprimere le foto su una grande size. Ma anche possiamo imprimere l'immagine in poste, usando qualsiasi foto editor, senza perdere le qualità, i dettagli e la risoluzione. Optical zoom, solo l'optical zoom. Just ignore l'optical zoom. Optical zoom is the zoom produced by the lens and the sensor. The digital zoom is an enlargement of the image. It's like when we crop the picture using a photo editor. Or another example, when you zoom or stretch the image on the screen of your mobile phone or computer or laptop. The result is an image with a poor quality and a bad resolution. Just with a 30 or 40 pair optical zoom, you can enjoy your camera in different situations. And they are very good for wildlife, street photography and also landscapes and portraits. The last thing you should look before buy a new camera is the option of RAW files. A RAW file is a large photo compared to a JPEG and a RAW image contain lots of more information. If you really enjoy to edit your photos in post using photo editors, like Adobe Photoshop or Adobe Lightroom, I really suggest you to get a camera that can shoot in RAW. Now let's take a quick look on a few cameras we can find on the market. I really hope you enjoyed to watch this video and hopefully it help you to find the best camera for your needs. Once again guys, I ask you to like my videos and subscribe to support my channel. Have a fun and see you next time.